Fate attenzione, tutti dobbiamo capire perché il MES è pericoloso per l'Italia. Il meccanismo europeo di stabilità, detto anche il Fondo Salva Stati, è un trattato intergovernativo, approvato dai vecchi partiti e sostenuto da Napolitano, che ha il potere di imporre scelte di politica macroeconomica ai paesi che lo richiedono. Il Fondo Salva Gente è stato creato a causa delle proprie crisi bancarie. Se una banca crolla, si può svingere al MES, ammonta a 700 miliardi e ogni paese membro ha diritto a una parte di questo. Se il governo italiano richiede l'intervento del MES, dice Dio per sempre alla libertà di decidere il futuro economico del nostro paese. Il MES è uno spruzzino, non un salvatore. Vi ricordate che è successo alla Grecia di Cipra? Chiedere soldi al Fondo Salva Stati significa essere governati dalla droga. Sapete cosa accadrà se il gentilone chiederà soldi al MES per salvare molti due parti di piena e tutto il sistema bancario italiano? Per prima cosa, nessun futuro governo eletto avrà libertà di scelta. Poi, non esisterà più la possibilità di avere un reddito di cittadinanza. E infine, ci sarà il blocco della nostra economia, Chiava, dei trattati europei. Richiedere il MES significa vendersi alla croita. Non facciamo del male all'Italia. 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 Grazie a tutti.